Vignus è delle tre città baltiche, quella che è sempre stata più vicina all'occidente e non solo in senso geografico. Forse per questo la modernità occidentale è passata così velocemente oltre Cortina, portando con sé anche le sue espressioni artistiche e qui si accentuano ancora di più con toni post, post moderno, post passato, post tempi bui. In questa sorta di biennale lituana di arte moderna cerco di interpretare l'espressione dei suoi artisti, colori e forme un po' esagerate, a fratti incomprensibili, come deve essere ancora il passaggio così repentino da un mondo ad un altro in pochi anni.